E che c'è sta? Finali 4, dai! Picchettini, pacchi, picchettini, pipipipipipà, vediamo che c'è sta da... che c'è può da... Buono, Toni Kroos, 86 Poi Bronzo, 87 E... Un bel pareco, 86 Buoni Campagna misto Vabbè, Gundogan, se può... vedete usare in qualche modo strano Quanto sta? 200? 300? Ah, madonna, è morto pure Gundogan A esso che culo, Gundogan 100k, ultimate 385 Io comunque sto sempre per aggiungere qualcosa nei premi WL Visto i premi delle rivals e tutta la roba che danno Cioè inizia a perdere un po' di senso Ah, spasperfetto Vip, grazie Eh, va Eh, capito Fai i rivals e t'ha de tutto Oh, if Ma che uomols Ah, è unica carta... Vabbè, da 88 30k di WMELS 385 più Con 385, eh Portogallo CC Ti prego, girati Ti prego Perfetto Vabbè, però ci ha dato un altro if Dai, 60k l'hanno fatti Vai, andiamo a vedere Ah, si è buggato Non posso aprire i premi Bella ragazzi Vi ricordo sempre che se siete alla ricerca di crediti per gli AFC24 scontati, veloci e sicuri Vi lascio il link in descrizione con il codice sconto Yoshi Quindi mi raccomando, fatene ovviamente buon uso e in maniera intelligente Io vi do un bacione e ciao Perché comunque giochi qua a full aroma Un paio, un paio di persone Dele Onesto Che gift hanno, ci stanno Oh, Collins Vabbè, questi ripeteli Cioè, frega anche cazzo Sì, vabbè, tanto, insomma E cambi molto Vabbè, picco, Onesti Stannui è fisso regalata Stannui te la regalano fisso Non c'è un cazzo da fa' Bello che mi sono fatto per fare segreti di Beppi Aguallaci le gole È un coglione Oh, Modric Pensa se si gira Di sotto c'è sta uno che vale due sortini Ok E sotto c'è sta uno di evento Sì, nel culo ce l'ho quello di evento Di eh Si manni su Manna tutto su Vabbè, si scherta Che cazzo ce l'ho Vabbè, 88, 87 Forse so, ben 15.000 crediti Se ce lo pensi Ultimate Che avrei dato Doppio workout Prima che te dà Una sborrata nel culo te dà Vabbè, Oberdof 3 workout Che butti Mamma, che grande Quello che c'ha Giftata, comunque Ma ormai si giochi per quello Mi capisco Per fare i crediti Le c'è Mi 3,85 Ah, direi Mamma mia Mamma, che schifo E mi dà Weekend League Vabbè, dai Ruben Dias Tanto non si gira Manco per cazzo Eh, che nosa Mamma mia Ma che cazzo L'hanno giocato a fare Cioè, nel senso Proprio Boh Sta senza senso Sti premi Alberto Base Secondo me è un fenomeno Però che ricordo Bah, veramente È bello Abbiamo preso Un bel livello 5 Sul primo account Vai Eh, cavo Vabbè If 87 Solopiamo Poi 87 Basta Solopiamo Il picco Secondo me È sempre Lo stesso Comunque Io ripeto La Stanway Che è 93 Dici buono Ma do cazzo La picca La Stanway Eh, boh Picca campagna Va bene così La scerta ma Recuperando Triplamina Bono Trippier Che culo Quello mi ha scritto Che io Mannare il cielo Su rigore No Peccato Se gira Facciamo una minima Speranza Oh Magari c'è qualcuno Bono sotto Sicuramente Oh Intanto Bronze Silva Silvo Se non vuoi termine Una volta al giorno Poi andare a dormire Sereno Sicuramente sotto C'è un evento Sì sì Fidate Eccolo MacAllister Vabbè Gullit Gang Che fa Ho butti Sì Ma almeno 30.000 Creditiamo Fatti Dai Ogni volta E' una festa Tutta bella Sburacchiata Quindi prendiamolo Grazie 22 22 Si prende Si apre Si fa Olè Però è la prima volta Che vedo scolse Tutta a destra E non al centro Ah Il contenuto L'odore Il profumo Senti 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 Che robetta La prima volta E vedo scolse Lì Che è successo Comunque Hanno messo Rebirth private Ma veramente Te posso Dì una cosa Non c'ho Spazio Per scaricarlo Su sta play Però Icona 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 Sì Laudrup Gattuso E bannister Roy Sì Cazzo Che drop Mamma mia Che drop Assurdo Assurdo L'immortacci vostra Amazon Sicuramente Non riesco a capire Che cosa gli è successo Mi ricordo I primi erano anche Erano anche Buoni Ma questi So Agghiaccianti Ma io manco Lo faccio Lo faccio Il secondo Account Perché Non lo so Balbo Ne avevo registrato Uno solo E non è andato bene Non è mai uscito Quindi Vabbè Questo è già meglio Anche se Secondo me Questa oggi Una squadra media Non gioca Dove trovo Cordoba Picco 83 Più Quelli là Che ne può fare Tipo 4-5 Al giorno 10 Carmine 10 10 Ma c'è L'aggiornamento Fisso A costo tanto Perché sono usciti 30 minuti fa E non c'è Sta in missione C'è sta roba Da mettere Non c'è un cazzo Tanto L'aggiornamento Lo lasciano Fino a fine gioco Quindi con 38 Non te vanno La prima Fammi fare due picche Ma ho miso Abbiardate Almeno fammi Le apri Nel senso Stim Grazie per Per il raid Eccoci 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 Non penso Non penso Questo venerdì Perché non c'è Nessuna schermata Però Mi è da pensare Che cazzo fanno Pum Vabbè adesso David Beckham Ma vabbè Guarda sto in stream Non è che C'è A rovinare pure L'evento Toz Vabbè Quello No Poi rovinare Deve essere Delegno Per rovinare Toz Sì Daniele Interessante Anto ormai Inevitabilmente Se hai giocato Più o meno Tutto l'anno Pure che Se te sei fermato Qualche mese C'avevo Un'ottima squadra Snipera Ma si Riamazzambro Col fatto che Nei pacchi Se pia Mamma mia Questo è L'ultimo Team of the week Sì Che poi Posso dire Un pochino Presto Per togli Team of the week Squalo Grazie V34 Ben tornato Ma figa sarebbe Cioè se tu Già mercoledì Mi fai un esordio Del genere Eh Se sostituiscono Così Ci potrebbe Stare Mamma Roberto Ma meglio Te preoccupare Richelme Guarda Tutto Sommato Che sai Il figlio Finisce tra Due setti Anno Quindi Probabilmente I toz Saranno Dopo Quella data Sì penso Pure io Scata 3-14 giorni No Il pass Che vuol dire Non domani Neanche il giovedì dopo A quello dopo ancora Che fanno Che fanno due settimane De buco Che sono matti Mamma Sì vedi Però c'è No ma sicuramente Non ci avrebbe senso Più che altro Che cazzo fanno E ho capito E ho capito E ho capito Ma mo Che fanno Dai Riproviamo Vediamo Che esce fuori Olè Il trio Delle meraviglie Questi si metti tutti e tre In squadra Fai zero E ti fai Che spettacolo Da primo testi Venti piccattini Se siamo fatti Ah Mike Forte Forte Sì Oh Bono Era primo Reguillon Bono Bono L'effetto Oh Ma che sta scherzando Da paura Già sono soddisfatto Certo Spero di vedermi Un paio di walkout Di fianco Bono Spero di non Prendere doppioni Anche se C'è credo poco Ok Drip E' buono Vialli Lineger Vialli Lineger Guarda Ho giocato Stasettimana Con certi Cessi Li ho Maledetti Tutti Gli attaccanti Della mia Weekend League Quindi A sto punto Te potrei pure Di Sti cazzi Che veramente Mi gioco Capo Walkout Ok 86 Già qualcosa Un evento Ora Donnarumma Marquinhos Hernández Beraldo Mendes Che ha messo Martínez Marquinhos Terzino Vitigna Ruiz Link Angin Mi sembra un po' Mantri Beraldo Centrale Ah Hernández A sinistra Hernández A sinistra Mendes Pure a sinistra Chi giocato A sinistra Che gioca Lui a destra Boom Ah E dai C'è sta Testa cansella Rau Kubarsi Kunde Roberto De Jong Gundogan Rafinha Lewandowski Yamal Vabbè Duif Buono Comunque Sempre carte Che un minimo Pagano Quindi Vediamo un po' Che ci regala Adesso Tocca a piallo Trocba scambiabile Fion No 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 Ma Queste carte Più Vanno avanti E più calano Non è che si escono Dai pacchi Ripiano qualcosa Il gioco è finito Stama i dots Va tutto a scarto Ormai Via Come trovi Frulla È inutile Che ti tieni Non Non vale la pena Guarda Forse speravo Forse Qualca Out Toro Normale Un pochettino Meglio Però Vabbè Vabbè Vabbè